Dobbiamo differenziare quella che si chiama moltiplicazione del denaro da rivalutazione del denaro. Qual è la differenza tra rivalutare e moltiplicare il denaro? Priorità finanziarie. Parleremo di priorità finanziarie, un tema molto importante. Risponderò ad un commento molto interessante che è stato fatto ad un post pubblicato la settimana scorsa. Il 23 ottobre si terrà il webinar L'Immobiliare che rende. È un webinar molto interessante per chi è interessato a capire meglio il mondo dell'immobiliare, dell'investimento immobiliare. Ne parlerò io, che non so se lo sai, ma ho una società immobiliare. Condividerò anche, ad esempio, l'ultimo progetto che stiamo analizzando. Solo l'immobile costa un milione di euro, più 600 mila euro di ristrutturazione, forse di più. Abbiamo fatto l'offerta a giugno, siamo in trattative da quattro mesi. È un progettone, non so se lo sai, ma appunto io non faccio lo youtuber, ho il piano finanziario che è il brand di consulenza e di formazione, ho anche una società immobiliare. Se vuoi capire dietro le quinte di cosa vuol dire fare un investimento immobiliare che rende e quale invece è l'investimento immobiliare che non rende o che non è giustificato dal punto di vista finanziario, partecipa, sarà super interessante, è gratuito, si terrà mercoledì 23 ottobre alle ore 21, puoi registrarti pianofinanziario.it slash immobiliare. Cominciamo con un commento molto interessante, che si collega con un altro commento molto interessante. Alessandro Girolamo dice, un tuo consiglio appelli per riuscire a salire di patrimonio, diciamo a far crescere il patrimonio, potremmo dire? Riuscire a abbassare la spesa di casa e auto e puntare su azionario? Ok, quasi. Rimaniamo sulla prima parte del commento. Come fare a far crescere il patrimonio? Che ragionamenti fare? Io voglio condividere una serie di idee, però ti invito a partecipare il più possibile. Allora, questo concetto, come faccio a capire su cosa concentrare le mie energie, con un obiettivo di far crescere il mio patrimonio? Quali sono le priorità finanziarie da seguire? Bene, ottima domanda che mi sto facendo autonomamente. Voglio condividere una serie di riflessioni. Ho pubblicato qualche tempo fa un post che andava un po' ad approfondire questo tema e il post è il seguente, ce lo leggiamo. Se hai problemi di soldi, il vero problema sei tu. Una frase ad effetto, lo so, però se no come faccio a catturare la vostra attenzione se non c'è una frase ad effetto? Molte persone pensano di avere problemi di soldi e che questa sia la causa dei loro problemi, ma non è così. Il denaro o la sua mancanza sono la conseguenza dei loro problemi, non sono la causa. Usando un termine macroeconomico, il denaro è un lagging indicator, cioè un indicatore che certifica un fenomeno, non lo anticipa. Ecco, questo è già un primo concetto che mi preme approfondire. Un lagging indicator, quindi è un indicatore ritardato, ritardante potremmo dire, ritardato, ritardato forse più bello, che invece è alternativo di un leading indicator. Un leading indicator nel mondo economico è un indicatore che anticipa un fenomeno. Il messaggio qui, ho voluto fare questo parallelismo col mondo della macroeconomia, che è che il denaro è un lagging indicator, cioè indica un fenomeno che si è già verificato. Cioè, in altre parole, come ho dovuto precisare, ad eccezioni di eredità, sfortune della vita, elementi che non puoi controllare, se hai denaro, non ne hai, è conseguenza della tua capacità di gestirlo, di produrlo e di moltiplicarlo. Questo è quello che ho voluto definire il gioco dei soldi, che è un gioco fatto di tre fasi. Questo è il primo concetto che vorrei approfondire. In realtà sono quattro, perché l'ultima fase si può dividere in due, adesso vedremo perché. È come giocare a Monopoli. Chi vince molte partite, le molte partite del denaro, e tutti i giorni giochiamo alla partita del denaro, al gioco del denaro, evidentemente sa qualcosa che chi perde non sa. E per rispondere a quello che sarà un commento che è stato fatto a questo post, cioè come faccio a crescere, a far crescere il mio patrimonio, come faccio a prendere decisioni che siano efficaci, no? Sulle giuste priorità. Bene, devo capire che questo gioco è fatto di tre fasi. E le tre fasi sono la produzione del denaro, la gestione e la moltiplicazione del denaro. Se vuoi vincere al gioco dei soldi, devi essere in grado di giocare relativamente bene ognuna di queste tre fasi. La prima fase è la capacità di produrre denaro, cioè avere delle competenze professionali che ti permettano di vendere le tue competenze, appunto, sul mercato del lavoro e produrre denaro grazie al lavoro. Fammi sapere nei commenti se ti è chiaro questo concetto. La prima idea è che dobbiamo essere in grado di produrre il denaro. Una volta che abbiamo uno stipendio, e quindi se non hai uno stipendio abbiamo già capito che questa è la priorità, avere uno stipendio, ma ipotizziamo tu adesso abbia uno stipendio e che sia anche in leggera crescita, non dico che tu stia facendo carriera, ma sia almeno in crescita pari all'inflazione. Il tema successivo è essere in grado di gestire il denaro. Gestire il denaro vuol dire prendere decisioni nel quotidiano che mi permettano di mettere da parte qualcosina. E queste sono capacità di gestione del denaro. Cosa vuol dire gestione del denaro? Molto spesso le persone pensano che una volta che tu sei in grado di produrre il denaro, il passo successivo è investirlo. Stanno ipersemplificando una realtà che è molto più complessa. Ogni giorno noi prendiamo decisioni di gestione del denaro. Un esempio, quale macchina comprare? Quanto spendere per la macchina? Prendo con un finanziamento o la prendo pagando la cash? Compro una casa o l'affitto? Compro la casa in centro città o la compro per spendere meno in periferia? Se compro una casa lo faccio con un finanziamento o lo faccio massimizzando il mio capitale, quindi avendo un finanziamento più piccolo? Faccio un finanziamento a tasso fisso o un tasso variabile? Queste sono domande all'interno del macromondo, della macrotema, della gestione del denaro. Come utilizzo al meglio le mie risorse? Potrei andare avanti a oltranza. Quante altre decisioni di gestione del denaro prendiamo quotidianamente senza renderci conto del fatto che sono decisioni su cui abbiamo un ruolo attivo? Perché il primo tema è essere in grado di produrre il denaro con il lavoro. Il secondo tema è prendere decisioni relativamente alla gestione del denaro. E tipicamente gestire il denaro vuol dire anche capire come lo stai spendendo, quanto ne stai spendendo, in che cosa lo stai spendendo. Associato al tema della gestione ci metterei anche tematiche molto più profonde, cioè di che obiettivi finanziari vuoi raggiungere, quindi se ciò che stai comprando ti permette di realizzarti, o magari no, o magari sono soldi che stai bruciando e sono risorse che non stai usando nel migliore dei modi. Qui si apre un tema, fammi sapere nei commenti se ti interessa, perché è un tema che a me appassiona molto, cioè il tema valoriale e della felicità in generale. Fammi sapere nei commenti se ti interessa, potrebbe essere l'oggetto di un altro video. Una volta che abbiamo capito e preso le corrette decisioni relativamente alla gestione del denaro, dovremmo focalizzare la nostra attenzione sul moltiplicare il denaro. Quindi, come dicevo in questo post, se il denaro appunto è un lagging indicator, cioè certifica un fenomeno che si sta verificando, se tu non sei in grado di investire in modo efficace, potresti avere un problema nella terza fase, che è quella della moltiplicazione del denaro. E qua ci tengo a tornare frontale, perché dobbiamo differenziare quella che si chiama moltiplicazione del denaro da rivalutazione del denaro. Qual è la differenza tra rivalutare e moltiplicare il denaro? Rivalutare il denaro vuol dire avere una rivalutazione appunto, tipicamente potremmo definirla in un ordine di grandezza tra lo 0, non si rivaluta, e il 8-10%. Questi sono rendimenti che sono generabili dai mercati finanziari. Obbligazionario, azionario, scegli un portafoglio con un differente grado di rischio, potenzialmente puoi avere una redditività tra lo 0 e il 10%, basandosi su dati storici. Questo vuol dire rivalutare il denaro. E rivalutare il denaro lo si ottiene appunto con strumenti, finanziari, con la finanza. Diverso è moltiplicare il denaro. Moltiplicare il denaro vuol dire avere rendimenti oltre il 10%. Vuol dire avere rendimenti che non si ottengono con la finanza, a meno di rischi molto importanti, che la maggior parte della gente non sa valutare, e quindi perde soldi. Ma per rivalutare il denaro serve spostarsi dalla finanza all'economia, cioè a entrare nel mondo dell'imprenditoria. Quindi chi è che è in grado di moltiplicare il denaro? Un imprenditore. L'imprenditoria vuol dire che magari hai un ROE, il ritorno in equity della tua azienda, che è del 20%, vuol dire che tu ci metti 100 di capitale e lei produce il 20%. Dimentichiamaci temporaneamente le tasse. 20% di ritorno sul capitale non lo fai con la finanza. È molto difficile. Cioè nel senso, c'è riuscito Warren Buffett a farlo. L'uomo della strada, l'investitore della domenica, per dire uno che non lo fa di mestiere, ma anche chi lo fa di mestiere, fa molta fatica se deve prendere dei rischi molto importanti, non ha garanzia del risultato. Il 20% è molto più facile farlo con l'impresa, con un'attività imprenditoriale. Anzi, certe realtà possono fare anche il 30, il 40% di redditività, ok, sul capitale investito. Quindi questo vuol dire moltiplicare il capitale, vuol dire, ed è l'ultima fase, vuol dire avere una redditività ampiamente oltre il 10%, spostarsi dalla finanza all'economia. Questo è un concetto che la gente non capisce, perché tutti vogliono le rendite passive e non capiscono che le rendite passive si ottengono con la finanza e le rendite passive non possono superare un certo numero, perché dopo diventa impossibile che il patrimonio possa produrre in modo passivo una certa redditività. La massimizzazione della moltiplicazione si ottiene con il lavoro attivo ed è per questo che in piano finanziario noi spingiamo molto, cioè spingiamo, insomma, riteniamo che sia assolutamente valutabile un percorso imprenditoriale o da liberi professionisti, cioè un investimento nelle competenze, perché è quello che dà non solo il migliore interesse e la valorizzazione più veloce delle tue competenze, ma è anche perché permette di creare delle organizzazioni, degli investimenti. Pensate alla mia società, no? Stiamo ormai crescendo, stiamo raddoppiando, dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno siamo raddoppiati e la ragione è che c'è un alto ritorno sull'investimento. È un'attività imprenditoriale, che non vuol dire che sia facile, c'è da lavorare, siamo qui a cercare nuove analisti, vanno formati, vanno selezionati, eccetera, ma come qualunque attività imprenditoriale permette di avere una moltiplicazione del capitale. Vorresti investire in immobili, ma non sai da dove partire? Non sai neanche se fa il caso tuo. Bene, è perfettamente comprensibile, perché l'immobiliare è un settore molto particolare. E il 23 ottobre alle ore 21 abbiamo organizzato un evento che ha proprio l'obiettivo di spiegarti l'immobiliare che rende. Questo è il titolo. E ti parlerò dell'esperienza personale, perché con la mia società Vendaos faccio operazioni immobiliari da ormai 10 anni e alle spalle con i miei soci abbiamo compravendite per svariati milioni di euro. L'evento è gratuito e ti permetterà di avere una panoramica più chiara sul settore immobiliare, però da un punto di vista un po' particolare, perché mi occupo di immobiliare, mi occupo di finanziario, non ho preconcetti e questo è il vero valore aggiunto di questo evento che si terrà il 23 ottobre alle ore 21. Dal titolo, l'immobiliare che rende. Puoi prenotare il tuo posto gratuito cliccando il link che trovi in descrizione di questo video e ci vediamo il 23 ottobre alle ore 21. Ciao! Qui parlavo di tre fasi che compongono il gioco del denaro. Produrre, gestire e poi potrei aggiungere rivalutare e moltiplicare. Qui ho voluto semplificarlo perché era un po' troppo difficile da esprimere in un posto di massimo 200 parole. Ognuna di queste tre fasi è importante e chi prima capisce in quale area è debole prima capisce su cosa dovrebbe lavorare e ovviamente sono fasi sequenziali, cioè prima di rivalutare il denaro noi dobbiamo essere in grado di gestirlo e avere del risparmio e prima ancora dobbiamo essere in grado di produrlo e avere un reddito. La dura verità è che il risultato complessivo, cioè quanti soldi hai, è la conseguenza di quanto sei bravo a migliorare l'area in cui sei più debole tra le tre. Non è l'area in cui sei più forte quella in cui dovresti lavorare. Anche qui devo fare una precisazione perché quello che notiamo, considerate che in piano finanziario noi faremo 200 appuntamenti al mese, abbiamo un flusso di contatti in ingresso che è veramente importante. Quello che dobbiamo approfondire con molti clienti o potenziali clienti, uno dice mi interessano il mondo degli investimenti, ma sei già forte sul mondo degli investimenti, ne sei paradossalmente già abbastanza, ma tu non puoi crescere se non lavori sul punto di debolezza. Cresci in qualunque contesto, penso uno sportivo, un imprenditore, chiunque, tu cresci come persona, come sportivo, come imprenditore, se lavori sull'area in cui sei meno forte, non sull'area in cui sei più forte. Sull'area in cui sei più forte sei già forte, non ha senso approfondire. E quindi, per tornare al messaggio del post, se le fasi sono tre, produrre, gestire e moltiplicare, uno dovrebbe lavorare sulla fase in cui è meno forte. Se sei bravo già ad investire, dovresti lavorare su gestire il denaro, su produrre più denaro. Se non stai producendo denaro perché sei disoccupato, è inutile che parliamo di investimento. Dovresti parlare di produrre il denaro. O se hai un ottimo reddito, ma non risparmi, dovremmo parlare di gestire il denaro. Ok? Questo è, sono concetti di buonsenso, banali, ma benvenuti nell'industria dei servizi finanziari in cui le persone vogliono cose che non sono ciò che le serve a loro per migliorare. Benvenuti, e questa è la bellezza di questa industria. Poi, ognuno la può approcciare come vuole, noi cerchiamo di farlo con l'etica che è ti aiutiamo su quello che è il tuo punto di debolezza e se invece sei forte su altre aree, benissimo, non hai bisogno di noi, come dovrebbe fare qualunque professionista. Quindi, questa era un po' la premessa ed è il contesto che mi ha stimolato a produrre questo contenuto perché soprattutto Carlo Amodeo ha apprezzato molto il post, ha fatto un commento. Il post è davvero interessante, mi ha colpito molto il concetto che il denaro sia un lagging indicator e non sia la causa dei problemi finanziari. Quindi, lo ripeto, il denaro è un lagging indicator. Se noi non abbiamo soldi, vuol dire che siamo carenti in una delle tre fasi. È la conseguenza il fatto che non abbiamo soldi. La causa sono le nostre abitudini legate alla gestione del denaro o la nostra incapacità di gestirlo, la nostra incapacità di produrlo o la nostra incapacità di investirlo e preservarlo. Quindi, il denaro è un lagging indicator, è la conseguenza e non è la causa. Hai centrato perfettamente l'importanza delle competenze nel gioco dei soldi. Trovi illuminante la distinzione tra produrre, gestire e moltiplicare il denaro. Non è mia, non mi ricordo dove l'ho letta, ma anche per me è molto affascinante perché spesso ci concentriamo, giustamente come dice Carlo, su una di queste tre fasi trascurando le altre e questo genera squilibri. E sono i casi che dicevo prima. Gente che è bravissima a rivalutare, magari è anche brava ad investire, ma non ha risparmi. È brava ad investire mille euro. Ok, ma il vero problema non è investire bene mille euro, è avere altri mille euro da investire. E quindi, Carlo dice, mi chiedo, qual è secondo te la prima azione pratica per chiunque dovrebbe compiere e migliorare le proprie competenze su una di queste aree? E la domanda è giusta e la domanda è, tra l'altro, fatta da, io vedo che è un imprenditore, socio fondatore di Futurelica SRL che non conosco. Questi concetti sono facilmente comprensibili da chi è imprenditore, chi è un libero professionista, chi deve prendere decisioni strategiche, quotidianamente. E purtroppo è per questo che io ci tengo a fare questi contenuti anche per educare chi magari viene da altri contesti, tipo è dipendente, non deve porsi domande quotidianamente di natura strategica e che quindi magari è meno profondo su queste tematiche. E io quando ero dipendente non ero profondo come lo sono adesso. Oggi sono ossessionato dal prendere decisioni strategiche sullo sviluppo aziendale. Dove concentro le mie risorse mentali, i miei soldi quando devo fare degli investimenti? Su che cosa concentro la mia attenzione? Ogni imprenditore che vuole stare a mercato e prosperare deve prendere decisioni quotidianamente, deve farlo con un framework, cioè con uno schema di ragionamento che è basato sulla strategia, non su che cosa posto, su quale social posto i miei contenuti. Questa è una decisione tattica, poco rilevante nel grande schema delle decisioni, no? E quindi faccio questa precisazione perché per un imprenditore o un libero professionista è più facile ragionare in questi termini. Per un dipendente c'è da fare uno sforzo in più. È fattibile perché alla fine sono concetti di buon senso però ha fatto uno sforzo in più. Quindi la domanda di Carlo è ok, qual è la prima azione pratica che dovrebbe compiere qualcuno che vuole migliorare le proprie competenze in una di queste tre aree? Quindi lo ripeto, produrre, gestire, rivalutare o moltiplicare il denaro. Abbiamo aggiunto la quarta. La vera priorità è capire dove sei meno forte perché se è vero che ci dobbiamo concentrare sui punti di debolezza devo capire dove sono meno forti. Ti faccio un esempio, premessa, cioè apro e chiudo una parentesi. Commentate, fateci capire che se e quanto apprezzate questi contenuti perché come vedete ci danno spunto per produrne altri quindi risponderemo a Carlo che abbiamo risposto alla sua domanda. Dobbiamo capire su che cosa concentrarci. Un ragionamento che faccio io come imprenditore e che può essere di stimolo per chiunque voglia crescere. Su cosa devo concentrare le mie energie? Il ragionamento che faccio io personalmente è ok, cosa devo fare affinché la mia azienda valga il doppio o fatturi il doppio tra un anno? Cos'è che mi impedisce tra un anno di fatturare il doppio? Mi toglie immediatamente davanti quelle che sono delle distrazioni perché io potrei fare un sacco di cose, potrei creare un altro canale YouTube, spingere sulla pubblicità, produrre nuovi servizi, potrei... Ho l'infinità di opzioni davanti a me ma se io voglio raddoppiare il fatturato tra un anno cosa devo fare? Qual è il limite? Questo mi permette di capire... La metto giù a limite. Cos'è che mi sta impedendo di raggiungere quel risultato? Se sei un libero professionista e questa domanda che secondo me è molto forte la puoi fare anche tu se sei un dipendente la domanda può essere rifrasata in cosa mi sta impedendo di ottenere una promozione o di crescere del 30% del mio reddito in 12 mesi? Come imprenditore ho parlato di raddoppiare il proprio fatturato aziendale come dipendente puoi ambire ad una crescita più lenta perché la crescita dipende anche da persone esterne quindi cosa mi limita in una crescita del 30% del mio reddito? Fammi sapere nei commenti io personalmente ci penso costantemente e ho definito delle 100 cose che potrei fare 5 priorità e le ho messe in ordine quindi so che devo chiudere alcune magari due possono essere anche in parallelo tre possono essere in parallelo perché ho una struttura e quindi non sono da solo se fossi da solo dovrei andare con un ordine sequenziale ok? quindi dovrei fare la prima cosa la chiudo poi mi ripongo la domanda faccio la seconda e poi avanti così avendo una struttura ho definito quelli che sono gli elementi che mi stanno bloccando e poi ho delegato persone a fare determinate attività tornando al e questo come ragiona un imprenditore e secondo me è una risposta che può andare bene per la domanda di Carlo che è appunto su che cosa concentrarsi per migliorare le proprie competenze in ognuna di queste aree dal momento che anche lui è un imprenditore se tu non sei un imprenditore o un libero professionista le logiche sono esattamente le stesse devi capire su cosa concentrarti e quindi pensa a produrre il denaro che è la prima fase cosa mi impedisce di aumentare del 30% il mio reddito tra un anno oppure gestire il denaro che è la seconda fase cosa mi impedisce di aumentare del 30% il mio risparmio nel giro di un anno per quanto riguarda l'investimento cosa mi impedisce di far aumentare di un paio di punti percentuali il mio rendimento il rendimento del mio portafoglio ok queste sono un po' le domande che mi farei quello di cui abbiamo discusso oggi appunto che ci sono tre fasi nella gestione del denaro che appunto sono la produzione la gestione e la moltiplicazione e ci tengo a reiterare il concetto che non è detto che la tua priorità sia rivalutare il denaro o moltiplicarlo in altre parole potrei anche dire che se sei sotto una certa soglia di patrimonio la tua priorità non è investire al meglio cioè diciamocelo se hai 10.000 euro se il tuo capitale rende il 7 o l'8% non ti cambia la vita punto al di là di chi dice che con 10.000 euro puoi ottenere delle rendite passive e farti la seconda entrata sì va bene la roba esiste solo su youtube non esiste nel mondo reale nel mondo reale esistono questi concetti giusto per dare un'idea io sto facendo un percorso formativo che mi porta a fare formazione a relazionarmi con realtà che gestiscono patrimoni di famiglie da 100 milioni 50 milioni a salire quindi quello che è il mondo dei family office ragionano così è paradossale ed è la ragione per cui io produco questi contenuti perché in certi ambienti i family office sono appunto le realtà che gestiscono i patrimoni di tipicamente imprenditori che fanno un exit cioè che magari vendono l'azienda incassano tutto in una volta 30 milioni 50 milioni quello che è il valore dell'azienda e devono a salire possono essere ben di più e dicono ma io con tutto sto patrimonio qua non è che vado in banca a farmi dare dei consigli io creo il mio family office cioè un ufficio che gestisce il mio patrimonio cioè assumo un analista finanziario assumo uno che gestisce patrimoni magari un consulente un private banker con 30 anni di esperienza e loro lavorano solo per me questi ragionamenti di approccio strategico di la differenza che facevamo prima tra rivalutare e moltiplicare sono ragionamenti da family office quindi sono ragionamenti da chi ha tanti soldi solo su youtube si vuole convincere lo spettatore che questa roba non funziona ma chi ha soldi e ne ha tanti ragiona così e ve lo dico perché ieri ero a Milano a fare formazione su questi temi mi dispiace prima o poi il concetto è sempre che questo è come funziona il mondo finanziario c'è chi vuole reinventare la ruota anche quando è già stata reinventata e prima o poi si accorgerà che questi meccanismi non funzionano meglio accorgersene prima che poi io questi concetti mi sento di poterli spiegare perché in prima persona li ho dovuti imparare li ho imparati rendendomi conto che ci sono stati momenti nel mio percorso imprenditoriale in cui non seguendo questi concetti ho lavorato tanto portando a casa poco in termini di risultato perché non lavoravo in modo strategico lavoravo in modo tattico e adesso sono così ossessionato dalla tattica perché devo appunto come dicevo prima prendere decisioni quotidianamente però la respiro quotidianamente questa filosofia ok strategica